Mi si stava laggando Bentornati Oggi io sono Speaky Game Che non so perché Ho scritto male Speaky Quindi Fra 14 giorni Dovrò cambiare Solo una lettera Oggi Noi Faremo Con Rapineremo Un sacco di gente E dovremmo Vabbè non faccio domande E dovremmo diventare I famosi ladri di Brookhaven Ita Partiamo subito con il nostro Avatar Che ovviamente non va bene Così quindi Non so dove spostare il Cosa Basta che noi Scriviamo la Ladro Ladro Poi di pantaloni qua Dovremmo scrivere anche Ladro Ok così va bene Poi dopo Nel cappello ovviamente Ti serve una maschera Perché c'è un pezzo Ladro Ma è una corona Forse è una faccia Ladro Oggetti non trovati Vabbè E che sta maschera Mamma mia Faccio paura In questo modo Anche a me stesso Quindi abbiamo questo Questo E questo Toh Guardate Ora Siamo degli ottimi ladri Peraltro dovremmo armare Dai ragazzi Anche voi Stupro che me l'avrete fatto Non mi denunzate Comunque Io mi sono armato Di pistola Ora me ne sono accolto Che avevo il volume E una granata Addio Allora Praticamente Ok ragazzi Vedete di là Sono a casa Che si sta Tra facendo Allora Mi sa che questa persona qui Sia stupida Ha lo stesso Nome di mio fratello Ma non è mio fratello Allora Noi facciamo un po' di nascosto Su forza Questa è una rapina Mani in alto Eh Oh mio dio Sta sta impazzendo Fermo Ora se tu vuoi vivere Dovrai andare Del mio posto Ma prima portami Nella cassaforte Raga Allora Ed è andato qui sopra Non lo so perché Ma non mi Ma non parla Ma eccola Eh Rubo Anzi Sembra Vale Explore Ora Seguimi Raga Eccolo qua Ovviamente Seguimi Stupido Idiota E vai avanti Seguimi Guai a te Se tu dici agli altri Cosa devo fare Seguimi Seguimi T'ho detto Non resta fermo Se no Questo Alma qui Seguimi Oh no Raga Siamo andati nel punto Sbagliato Su Vieni Coraggio Ti sparo Seguimi Ti ho detto Seguimi Mamma mia Raga Divertentissimo Allora Anche qui Siamo finiti Sbagliatamente No Non Non Farlo Sì Invece Sì Che ti uccido BAM Sì Un altro Ferito Michel Guardate All'altra casa Per altre gente Che La sta sempre Chiuso Mani in Alta Non Non Prego Niente Io Ti ammazzo Di Già BAM Oh cavolo Mi Porto Il Cadavere Fatto Ora Portiamo C'è In Base Raga Non L'ho Solo Portato In Ma Nella Mia Macchina L'ho Dovuta Stare Qua Appeso Così Vabbè Andiamo Eccoci Qua Stavi Provando Scappare E Ma Sei Svenuto Eccoci Qua Dovremo Vedere Ah Qua C'è Una Va Bene Va Bene Io Non Voglio Che Non Voglio Che Loro Scoprino Che Ho Lassato Uno Di La Quindi Boom Allora Chiudiamo La Macchina Carina De Non Può Più Sire Allora E Sta Li Nel Verrà Tempo Andiamo In Un Ospedale Tanto Quello Crediamo L'asportivo In Molto Andiamo Ora Comun Ospedale Muniti Di Armi Salve Salve Un colno Vediamo Che Altro C'è C'è Un Dottor Su Dai Mani Alto Addio Ah 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 Entriamo Un Paciente Resta Basta Muori Ora voglio Farsi Tainai A sto Posto Scappo Ora Vediamo Gli Altri E Ancora Vivo Basta Dove Stai Andando Ah Ragazzi Qua mi sarebbe Fatto Un Cacchino Questo Qua è Tra Poveroso Allora Mira E Spara L'ho Ammazzato Cosa Perché Non è Molto Ehi Boo E Non è Stato Poi Lui Che Figata Che Sei Molto Oh È Vivo Che è Questa Macchina Da Guerra Su Dai Dobbiamo Rincorre Rincorre Ah È Caduto Dietro Dio No Ha Caduto Il Colpo Ah Dai Ah 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 Le Fratelli Sono Sbarazzate Il Cadavere Vediamo Chi C'è Un Bambino Dovevo Sparare Ah Aiuto C'è Questo Vito Come Dovrei Chiamare Sparo Sono Un Assassino Ok Sanno Assassinate Ah Sono Caduto Questi Bambini Ma Sto Ho Soltato Oh È Iniziata La Pioggia E Che Cavolo Opla Dove Sei Dove Che Forse Ma Che Aiuto Ah Io Raga Dove Dove Eccolo Eccolo Don't Nascence Questo Nane Rattolo Non Non Chiamare Mai La Polizia Che Popi Popi Pio Pio Ma che Stai a Parlare chiacchiappo dove è finito quella anerottola è qui? no forse è qui? no dove sei? ah giusto è una messa qui? no qui? no dove è finito questo stupio nanetto ok spero che ragazzo devi scappare non è che vuoi stare qua oppure devi scappare ma dove sono gli scappare? dove sono gli scappare? dove sono gli scappari? è la quasi vicino raga e questo video finisce spero che il video vi sia piaciuto ciao no ragazzi scherzo questo video qua ci ho messo un bel po' per idearlo ho chiesto un aiuto a mio fratello ciao saluta a frate ciao allora veramente mio fratello ha fatto tutte le vittime si anche ragazze tipo e ci siamo e lui mi ha aiutato ma l'ho ucciso più volte ahhh 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 ahhh